Cosa fa il WWF di Verona contro la negralizzazione insieme alle associazioni ambientaliste nel 2013? Leggiamo le mail che ha mandato agli amministratori nel luglio 2013. Verona, 29 luglio 2013. Via e-mail. L'associazione WWF Verona è venuta a conoscenza che fra qualche giorno, in relazione all'accordo di programma di cui alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto numero 2973 del 2812-2012, il Consiglio Comunale di San Pietro in Cariano sarà chiamato a deliberare sulla proposta di riqualificazione urbanistica con cambiamento della destinazione, dall'uso produttivo a quello residenziale, dell'area della fallita Lonardi Spa, come richiesto dalla società figura 22SRL, attuale proprietaria. Come noto, l'area interessata di metri quadrati 42.000 consentirebbe la costruzione di circa 400 nuovi alloggi. In conseguenza del riconosciuto incremento del valore del suolo, la ditta proponente sarebbe tenuta all'versamento dell'importo di euro 7.100.000, da impiegare per l'avvio di una nuova opera viabilistica atta, secondo quanto dichiarato, a decongestionare la circolazione automobilistica della Valpolicella. Al proposito, l'Associazione WWF Verona, nel dichiarare la propria ferma contrarietà alla proposta della società figura 22SRL, senza entrare nella congruità dell'esibuo importo compensativo, da meglio valutare in altra sede, ritiene proprio dovere di sottopore al Consiglio Comunale di San Pietro in Cariano le seguenti considerazioni. Punto 1 L'intera Valpolicella, ed anche quindi San Pietro in Cariano, racchiude nel proprio territorio beni ambientali, culturali, paesaggistici, naturalistici, di riconosciuto grande valore. Tale valore, è opinione della cultura veronese, ma anche nazionale ed internazionale, va gelosamente protetto e conservato. Punto 2 È vero che gli edifici ex-lonardi non fanno parte dei valori da custodire, ma seminare 400 nuovi alloggi in centinaia di nuove piccole costruzioni non è certo un intelligente rimedio, anche considerando il solo aspetto paesaggistico della questione. Punto 3 È vero che non è compito dello scrivente associazione entrare nel merito delle scelte imprenditoriali della società figura 22 SRL, Ma è anche vero che porre sul mercato della Valpolicella 400 nuovi alloggi, quando a San Pietro in Cariano e nei comuni limitrofi gli alloggi vuoti e invenduti da dati raccolti in loco, almeno 5.000, non è certo per azioni di sollievo all'economia locale. Molto meglio per gli imprenditori della valle stretti nell'attuale crisi, non vedere dilatarsi la misura dell'offerta. Non è certo da trascurare il fatto che, sulla spinta anche dell'associazione scrivente, si va affermando l'idea dell'opportunità dell'unione dei cinque comuni della Valpolicella, allo scopo di operare una scelta unitaria, per governare, fra l'altro, anche l'intero territorio omogeneo della Valpolicella. Quindi, nel tutto incongrua, l'intempestiva ed arbitraria risulta la proposta della società figura 22 S.R.L., dove fosse se accolta del comune di San Pietro in Cariano. Punto 4. Ma è anche da considerare l'aumento dei residenti nella valle, ed in particolare a San Pietro in Cariano, che l'iniziativa provocherebbe. Sarebbero più di mille, forse mille e cinquecento nuovi residenti in una Valpolicella, che in pochi anni ha visto salire la propria popolazione, da 45.000 a 70.000 abitanti, e che è da considerare ormai satura. Punto 5. Il nuovo tronco stradale proposto come avvio di una nuova seconda strada Valpolicellese è proprio inaccettabile. Si va sostenendo, da parte di tutti, e fortunatamente ormai, che la Valpolicella va tutelata, come già detto, per i suoi valori. Uno dei principali è il paesaggio. Il paesaggio deve divenire l'elemento motore di attività, atte, ad incrementare quelle turistiche e commerciali della valle. È per questo che la Valpolicella non può sopportare l'inserimento arbitrario distruttivo, devastante, di una nuova arteria stradale come proposto. Sarebbe come dire Valpolicella, addio! Una nuova strada, contrariamente a quanto i proponenti asseriscono, sarebbe invece, e senza dubbio funzionale, ad un incremento del traffico, ed anche occasione per nuove, e non più sopportabili spinte, all'incremento residenziale. E non risolverebbe, quindi, il problema del traffico, che vedrebbe, invece, il suo miglioramento nella realizzazione della metropolitana di superficie, autobus a gas naturale, e parcheggi scambiatori, di cui gli uomini politici ogni tanto parlano, senza poi approdare a nulla. Punto 7 Le considerazioni che precedono inducono il WWF a dire no all'accordo di programma, mentre invita chi si è assunto l'obbligo di amministrare il territorio ad imboccare la via più moderna ed intelligente, quella di una attenta conservazione di tutti i valori della valle, ha la fortuna, ancora oggi, di contenere. Per l'Associazione WWF di Verona, Averardo Amadio, Presidente Onorario WWF Veneto, Manuela Folmenti, Presidente Associazione WWF Verona. Condividono il presente appello e lo sottoscrivono Giorgio Massignan, Presidente Sezioni di Verona dell'Associazione Italia Nostra, Lorenzo Albi, Presidente Associazione Legambiente di Verona, Giovanni Beghini, Presidente Associazione Terra Viva di Fumane, Mario Spezia, Presidente Associazione Il Carpino di Verona, Daniele Todesco, Presidente Associazione Valpolicella 2000. Registrazione a cura delle WWF di Verona. Vuoi fare qualcosa di più? Aiuta il WWF di Verona. Iscriviti alle WWF di Verona. Bisogna. Bisogna. Iscriviti alle WWF di Verona. Iscriviti alle WWF di Verona.